Domani il D-Day del Partito Democratico, l'Assemblea Nazionale per trovare un segretario condiviso e navigare fino al Congresso che, oramai è certo, ci sarà solo in autunno. Un punto di ripartenza, dice il PD. Quel che è certo è che il segretario di domani non sarà il segretario del Congresso. D'Alema da Firenze, dove ieri si trovava per un convegno sull'Europa, si è detto convinto che un candidato condiviso si troverà e se a dirlo è lui è possibile che quel candidato già ci sia. Il nome Speranza è tutto un programma per un partito che deve rimettere insieme cocci politici ed elettorali. Roberto Speranza, dunque, al momento capogruppo alla Camera, giovane e non di apparato, almeno non quello della prima generazione del PD. Potrebbe aspettare a lui di caricarsi la croce, anche perché il nome è sinora più quotato, quello di Gianni Cuperlo, non c'è più. È stato lo stesso Cuperlo a precisare di non essere più in campo. Tramontato anche il nome di Guglielmo Epifani, passa in secondo piano anche quello di Anna Finocchiaro. Incastri che dovranno trovare necessariamente una loro collocazione nell'Assemblea nazionale di domani. D'Alema ci sarà a quell'Assemblea? Domani sono a Barcellona, proverò a rientrare, ma il mio core business ormai è all'estero, precisa D'Alema. Tutto italiano invece il core business di Matteo Renzi, che domani sarà a Roma e prova a modo suo a sciogliere la questione che lacera il PD. L'unico modo per non stare al governo con il centrodestra, dice, era quello di vincere le elezioni. E Bersani? Lui da segretario di missionario non vorrebbe aprire domani l'Assemblea, ma solo intervenire nel corso del dibattito. Atteso domani, anche il premier, Enrico Letta, anche lui dovrebbe parlare.